Nel 2021 il titolo di campione d'Italia va all'Inter che mette a fine alla serie di nove scudetti consecutivi della Juventus. È una serie storica che chiude un'era del nostro calcio e che possiamo indagare dal punto di vista sportivo, perché indubbiamente la Juventus ha rappresentato la squadra che ha scavato il solco più importante dal punto di vista tecnico con le contendenti in quel decennio, ma anche dal punto di vista economico-finanziario per come quelle vittorie sono nate e per come poi si è arrivati alla crisi attuale. In questo video andiamo a vedere come la Juventus è entrata nel circolo vizioso delle plusvalenze e cosa ci insegna la crisi Juve in chiave futura e in chiave strategica nella gestione del calciomercato di un club. Mettete like al video, fate commenti, avete visto che mi piace dialogare con voi anche quando sono abbastanza diretto nelle risposte, se dissento non è un problema, potete a volta a volta dissentire da me. Iscrivetevi al canale, campanellina per restare sempre aggiornati e buongiorno a tutti. Benvenuti in questo nuovo video, uno dei tre di questa settimana, lunedì, mercoledì, venerdì, come sempre, sapete, ce ne sono, ci sono tante novità e ci sono tante cose da raccontarci. C'è uno spartiacque nel decennio juventino, nel decennio delle grandi vittorie nazionali juventine che è rappresentato dalla gestione di Paul Pogba. Quando la Juventus cede Paul Pogba in camera una plusvalenza importante ma che per le scelte di bilancio che fa il club diventa di lì a poco una necessità. Cosa voglio dire? Le plusvalenze vanno trattate come partite straordinarie. La Juventus sta entrando in un mercato, andando a prendere Pjanic, andando a prendere Higuain, andando anche a prendere dei parametri zero che però fanno salire il costo e il monte salari della società. La Juventus sta entrando in un mercato che la porta, dal punto di vista dei costi ricavi, a dover coprire una parte dei suoi costi stagionali con delle plusvalenze costanti. E questo è ciò che crea le prime avvisaglie, crea i primi cortocircuiti che poi arriveranno a all'impoverimento tecnico della squadra, per scelte anche di mercato sbagliato, ma necessarie dal punto di vista economico-finanziarie, e B a quello che abbiamo visto con l'epilogo in termini di risultati in campionato che ha portato al nuovo ciclo rifondativo di Massimiliano Allegri. Cosa ci ha insegnato questa storia? Che quando un club agisce dal punto di vista economico-finanziario, senza, e soprattutto sul calcio a mercato, senza avere o senza tenere conto di quello che è il progetto tecnico di medio e lungo periodo del club, ebbene questo porta a difficoltà, a tensioni e a situazioni di difficoltà. La Juventus aveva affrontato un qualcosa di simile, in condizioni completamente diverse, attenzione, ma alla fine degli anni 90, non viene mai fatto notare, ma dal 96 al 97, dalla finale di Roma alla finale di Monaco di Baviera, la Juventus cambia ben otto giocatori. Questi otto giocatori nuovi che si presentano a Monaco di Baviera e perdono incredibilmente contro il Borussia Dortmund, sono giocatori completamente nuovi che non hanno giocato una finale di Champions League nella loro carriera. Perdono, perdono anche per non abitudine, perché è chiaramente una squadra disabituata ai grandi eventi, quella che arriva in finale, perché poi alla fine in campo ci vanno i calciatori. Il Real Madrid, che, e cos'era successo, piano, cos'era successo a quella Juventus? Che nel 96, con grande attenzione, lungimiranza, la proprietà dice, ok, dobbiamo cominciare a mettere le basi per essere autosostenibili. Attenzione, è una visione lungimirante che ha portato la Juventus ad avere lo stadio, che ha portato la Juventus a rialzarsi da calciopoli, che ha portato grandissimi risultati nel lungo periodo. Ma nel breve periodo, questa Juve, che rimane vincente in Italia, va ad intaccare quella che è la sua egemonia europea. Fa tre finali di fila, purtroppo ne perde due. Ah, è andata a toccare un qualcosa che ha cambiato la sua storia europea nel breve periodo. Attenzione poi, perché non parliamo di fallimenti, come che è la parola che riempie la bocca ai mediocri o altro. Cerchiamo di analizzare alcuni aspetti che sono, a mio modo di vedere, decisivi in alcune vittorie o sconfitte. Perché dico questo? Il Real Madrid, che vince quattro Champions League in cinque anni, dal 2014 al 2018, cambia nel complesso. Andatevi a vedere i tabellini alle finali. Solamente quattro giocatori. La Juventus dal 2015 al 2017 ne cambia ben nove. E quelli che restano, a buono Chiellini, che si infortuna prima della finale del 2015, e quelli che restano sono Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, probabilmente quelli che potevano essere i primi indiziati di un eventuale cambiamento in corso. Questo è quel che accade. C'è un eccessivo turnover. Ed è un eccessivo turnover che in parte è dettato dalla volontà della Juventus di andare a colmare alcune situazioni. E in parte, parlo della cessione di Pogba, e ci sarebbe anche quella di Vidal che però ha una sua genesi e una sua ragione probabilmente diversa, ma che in parte è legata a questa linea aziendale del nessuno è incedibile e quando arriva l'offerta giusta il giocatore si può cedere. Ebbene, secondo me, alcuni giocatori, Paul Pogba era tra questi, non andrebbero mai ceduti. Quando hai il miglior centrocampista del mondo che di lì a poco diventerà campione del mondo con la sua nazionale, da trascinatore vero in quella stagione, in quel torneo, non dovresti mai disfartene. Opinione questa del tutto personale, ma tant'è. Perché quel che accade è quel che ho detto. La Juventus, dopo quella plusvalenza, finisce a comunque far aumentare i costi, non vuole dare 15-17 milioni all'anno a Pogba, non sappiamo, non abbiamo la controprova perché nessuno mai si siede a fare la controofferta a Paul Pogba che magari avrebbe detto di no, ma la strategia non è nei radar e nelle possibilità percorse dalla Juventus e quindi quella scelta è quella che determina altre scelte costose che fanno inevitabilmente perché tutti sanno che nel lungo periodo il monte stipendi dovrà aumentare. Si cerca di tenere un determinato livello ma attenzione puoi avere il numero di risorse la quantità di risorse più importante della storia che se non sai individuare il talento sarà sempre difficile far corrispondere una buona spesa ad un giusto investimento in talento e questo è un fattore fondamentale che si tende sempre a dimenticare nel calcio quando qualcuno nel calcio è possibile da una stagione all'altra far aumentare di molto le fonti finanziarie ci sono tanti modi le proprietà possono immettere soldi nelle società ma il talento rimane pressoché rigido nella sua disponibilità nel lungo periodo e quando hai il miglior giocatore del mondo non devi disfartene arriverà Cristiano ma è una Juventus che dal punto di vista bilancistico è già entrata in una spirale di debito che sta aumentando e che aumenterà ulteriormente attenzione io non contesto l'acquisto di Cristiano che è quello che dal punto di vista tecnico tiene a galla il valore della rosa juventina e della squadra juventina nelle ultime stagioni contesto l'operazione dentro il contesto scusate il gioco di parole della Juve di quegli anni che ha appena fatto un'operazione Higuain quindi è una differenza sostanziale non potrò mai contestare Cristiano Ronaldo in sé è il contesto a fare la differenza e la Juventus arriva poi a sessioni inspiegabili per me due su tutte quella di Emre Can non il giocatore decisivo il giocatore che cambia le sorti ma un duttile che va benissimo e che viene legato alla notte in cui la Juve fa l'ultima impresa europea l'eliminazione dell'Atletico Madrid e la cessione di Joao Cancelo che è evidentemente una forzatura peraltro per un Danilo che è bravo ma che in questo contesto è bravo ma che al Manchester City faceva il terzo mentre Cancelo diventa di là un centrocampista assolutamente un esterno assolutamente insostituibile ebbene siamo arrivati al punto i progetti tecnici non possono essere non possono come dire essere un fattore secondario rispetto ai progetti economici pena stiamo parlando di grandi club è chiaro che se sei un piccolo club fai con quello che hai ma un grande club che può entrare in determinati livelli di mercato non può dimenticare il progetto tecnico non può trattare il progetto tecnico in base a quello che fa dal punto di vista finanziario se la priorità diventa il far tornare i conti con le plusvalenze il cortocircuito si realizza questo è quel che è accaduto e questo è quello che a mio modo di vedere ci insegna la Juventus dei nove anni e la crisi Juventus arrivata in queste due ultime stagioni grazie per avermi ascoltato a presto aspetto le vostre lezioni nei commenti grazie